Quest'anno su Stile abbiamo fatto un po' una rivoluzione. Abbiamo approcciato il 2013 con Stile con moltissime novità. Abbiamo lanciato tre nuove serie, Strike, Bridge e Queen. Abbiamo inserito tre tipologie diverse di piatti doccia e quindi diciamo che abbiamo fatto un cambiamento, una rivoluzione molto importante all'interno di quello che è il concetto della gamma prodotto, ma non soltanto perché abbiamo rinnovato quota parte della forza vendita, ha preso un nuovo responsabile e quindi Stile nel 2013 ha veramente una nuova veste. Diciamo che possiamo dire che stile cambia stile. Qual è però la caratteristica fondamentale di questo brand? È comunque di avere una gamma di prodotti e delle tipologie di prodotti un po' unici, in particolare quelli decorati che si possono inserire su diverse delle nostre gambe e che sicuramente creano molta curiosità e attraggono sicuramente l'attenzione. Stiamo parlando delle gambe e delle decorazioni mosaico, della decorazione chrome e della decorazione carbon, che si possono sviluppare, come vi dicevo, in diverse delle nostre linee prodotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.